ciao benvenuto al video autoplay di oggi ti farò sentire ed imparare la cosiddetta funky formula resa famosa da buzzi collins infatti in un suo vecchio video faceva vedere come sentiva lui il funk trascrivendo appunto queste queste note che poi sono semplicissime andiamo sempre a fare comunque note tonica ottava settima minore e quinta quindi le note sono sempre quelle sono sempre molto molto semplici e il ritmo che è un pochettino più complicato infatti io ho preparato una traccia di batteria in cui va ad accentare dove il basso deve mettere le note con il bordo del rullante vediamo anche la trascrizione a video ed andiamo ad analizzare prima di tutto veniamo alle note al ritmo allora partiamo con un re al tasto 5 dell'accordo di la poi andiamo a prendere la sua ottava il re superiore accorda di sol tasto 7 poi do la e poi conclude con un altro re basso e due re acuti come ti dicevo prima la cosa importante è il ritmo quindi noi scandiamo in in sedicesimi queste i nostri quattro quarti abbiamo il re primo re di imbattere la sua ottava e sul quarto sedicesimo la seconda e sul quarto sedicesimo della seconda battuta sul terzo quarto di nuovo il quarto sedicesimo poi le note do e la vengono prese sul secondo e terzo sedicesimo e poi abbiamo di nuovo il re imbattere sul primo quarto e poi di no sempre due ultimo sedicesimo del 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 movimento primo e secondo di nuovo tutto da proviamo a sentirlo anche con la batteria più lenta in modo da scandirlo bene bene spero che questo video ti sia stato utile fammi sapere nei commenti se ti va a condividilo e buon funk a tutti ciao al prossimo video